negli studi di tv siti l'avvocato Cirillo segretario nazionale della democrazia cristiana mancano ormai pochi giorni al voto facciamo chiarezza avvocato sulla candidatura sindaco di Michele Battiloro allora non ho nessun contatto con questo signore non ha nessun titolo per poter parlare di democrazia cristiana lui ha una sua idea tutta personale ma non riscontra con la realtà non c'è possibilità di poter avere nessun contatto il simbolo lo detengo io come segretario nazionale e ho diffidato in tutti i comuni d'italia coloro i quali andavano a depositare questo simbolo è stato tolto a tutti quindi se c'è qualche falsario e chi va a depositare simboli e nomi falsi e viene estromesso viene bannato da tutte le competizioni elettorali perché c'è una commissione prefettizia e nessuno si può permettere essendo conto e tutto pubblici ufficiali di dire determinate cose quindi la regola è che questi provvedimenti possono essere impugnati non sono stati impugnati allora di che cosa vogliamo parlare vogliamo trascendere noi siamo la vera democrazia cristiana e ci arroghiamo questo titolo noi siamo in conflitto con altre realtà politiche come quella di cuffaro come quella di di rotondi ma questi signori non li conosco proprio stiamo parlando di altre realtà persone che non hanno nessun titolo e si permettono di parlare anche su pseudo giornali che si stampano e si leggono soltanto loro ovviamente tutto ciò sarà portato all'attenzione della magistratura così la finiamo una volta e per sempre di mistificare ed infangare il nome della vera democrazia cristiana poi vediamo che riscontro avranno a livello elettorale con questa lista civica che dico pubblicamente non ha nulla a che vedere con la democrazia cristiana se fosse stata la vera democrazia cristiana usciva il simbolo sulla scheda cosa che non c'è si stanno arrogando un titolo che non è loro non c'è